buongiorno a tutti sono Claudio Rustichin del gruppo vacanze col cuore oggi vi parlerò del valicella glamping resort questo bellissimo villaggio che il gruppo ha in Toscana più precisamente nella provincia di Grosseto seguitemi in questo viaggio vi farò conoscere le caratteristiche di questo bellissimo glamping il valicella glamping resort nasce su una collina nel pieno della maremma toscana in una località che dista pochi chilometri da Follonica una splendida cittadina balneare all'interno della nostra realtà abbiamo varie sistemazioni ci sono piazzole che si dividono in standard l'arzo e xl abbiamo tende glamping case mobili e bungalow le glamping tend che abbiamo si dividono in base al numero di persone che ne possono usufruire le i-stay le coco couple ideali per le coppie sono strutture semplici con letto matrimoniale e angolo cottura in particolare le i-stay si sviluppano in due livelli le coco couple con la sua forma tondeggiante si trovano a un unico piano per le famiglie abbiamo invece le airdreamer ovvero tende a due piani che si classificano in tipologie una due e tre a seconda del numero di camere presenti al primo piano al piano terreno invece per tutte un bagno con una cucina le coco suite sono invece delle tende che hanno due camere dal letto una matrimoniale e l'altra la doppia e una piccola cucina un'altra struttura è la lodge ten del lux una tenda che ospita fino a 5 persone con una superficie di 28 metri quadri presente due camere la zona giorno il bagno e la cucina tutte le tende presenti a valicella glamping resort hanno uno spazio per poter mangiare all'aperto durante la bella stagione per quanto riguarda le case mobili nel nostro resort abbiamo le next l dove sono presenti due camere dal letto in grado di ospitare fino a 5 persone due bagni una zona giorno e la relativa cucina fiore all'occhiello della tipologia next sono le next panorama ovvero case mobili di circa 36 metri quadri che aggiungono ad arredamenti moderni e funzionali il fascino di un'ampia terrazza con panorama mozzafiato per chi volesse poi provare il perfetto connubio tra una casa mobile e una glamping tend abbiamo i cottage clever sono delle strutture che ospitano al suo interno due camere doppie una matrimoniale una camera doppia con il bagno nella zona della mobile home mentre per quanto riguarda la zona giorno è posizionata nella veranda sopra la terrazza al valicella glamping resort abbiamo anche dei bungalow per quattro o sei persone recentemente strutturati con un arredamento particolarmente accogliente in ogni bungalow potete trovare delle camere dal letto il bagno una cucina e una veranda dove potete pranzare all'aperto per entrambe le tipologie esiste la versione dog che vi permetterà di poter portare il vostro amico a quattro zampe in vacanza il valicella glamping resort offre una serie di servizi ai suoi clienti per esempio per gli amati dello sport sarà possibile fare le bellissime partite a calcetto nel nuovo campo che è stato installato quest'anno oppure la palestra all'aperto con i numerosi attrezzi che si potranno trovare all'interno di un parco particolare attenzione all'interno della nostra struttura viene dedicata ai nostri bambini in quanto il gruppo vacanze col cuore è specializzato per vacanze di famiglie con bambini i bambini durante la giornata potranno fare la baby dance partecipare al baby club e assistere ai numerosi incontri con spotty la simpatica mascotte del nostro glamping proprio a questo simpatico cagnolino è ispirata all'area giochi indoor fiore all'occhiello del valicella glamping resort è sicuramente il parco piscini un parco che ospita una grande vasca con diverse profondità una piscina più piccola che è la spotty pool e un enorme cascata appunto che dà su queste piscine poi abbiamo la laguna dove ci si trovano diversi giochi ad acqua ma se il parco acquatico del valicella è particolarmente famoso è perché ospita lo scivolo più lungo d'italia sono 130 metri di scivolo che segue la conformazione naturale delle terrazze terrazza appunto su cui è posto il nostro parco acquario al valicella glamping resort è presente anche un fornitissimo market dove ogni giorno potete trovare pane fresco verdure e altre prelibatezze se deciderete di trascorrere una vacanza in questo villaggio vi consiglio di fare tappa alla locanda del faro il ristorante del glamping che ogni giorno propone piatti di carne pesce e pizza secondo la tradizione italiana e toscana l'ampia terrazza il fornito bar e la cantina dei vini fanno di questo ristorante un vero fiore all'occhiello inoltre per i vostri pranzi aperitivi e colazioni potete usufruire del chiosco che si trova in prossimità delle piscine questo nostro breve viaggio all'interno valicella glamping resort è terminato quindi vi aspetto in estate vi aspetto qua in toscana in maremma al valicella glamping resort ciao